Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro oltre 5 quintali di bionde, tratto in arresto due contrabbandieri denunciandone altri sei. Questo è il bilancio di una serie di controlli operati in questi giorni e nelle ultime ore, frutto dell'intensificazione delle attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio sul capoluogo e nell'area metropolitana da parte delle fiamme gialle partenopee. In particolare nel corso di un primo intervento i baschi verdi del gruppo pronto impiego di Napoli durante i costanti controlli su strada hanno individuato all'incrocio tra via circunvallazione esterna di Napoli e via Luigi Minale del comune di Melito di Napoli un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando dei marchi Winston e Minsk su un'autovettura, occultate sotto un telo nero su cui erano stati poggiati tubi idraulici e pettorine catarifrangenti. Le successive perquisizioni condotte presso un box nella sua disponibilità hanno consentito di trarre in arresto un 29enne di Napoli già noto per fatti di contrabbando e di sottoporre al sequestro nel complesso 380 chilogrammi di bionde. Nel corso di una seconda operazione gli stessi baschi verdi hanno notato in via del Cassano, nel quartiere secondigliano del capoluogo, un soggetto che dopo aver notato il passaggio della pattuglia si era allontanato repentinamente. Insospettiti dal comportamento dell'uomo i fidanzieri lo hanno fermato trovandolo in possesso di 200 grammi di sigarette di contrabbando. I successivi accertamenti condotti in stretto accordo con la sala operativa hanno permesso di riscontrare il suo stato di latitanza poiché si era sottratto ad un ordine di carcerazione per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere e furto, emesso a suo carico dal Tribunale di Avellino. Al termine delle attività è stato ristretto presso il carcere di Poggio Reale. Inoltre il gruppo Napoli nel quartiere Stella ha sottoposto a sequestro in via Bellini, angolo Vico III Casanova, 120 chilogrammi di sigarette di contrabbando trasportate su un furgone notato perché vicino allo stesso vi erano due uomini che alla vista della pattuglia hanno abbandonato una valigia e si sono repentinamente dileguati. La compagnia di Pozzuoli a Bagnoli ha sequestrato presso l'abitazione di un 67enne successivamente denunciato oltre 10 chilogrammi di sigarette dei marchi Winston e Regina Red. Le compagnie di Casanova e Torre del Greco hanno denunciato 5 minutanti che detenevano diverse decine di pacchetti di sigarette di contrabbando messe in vendita all'interno di autovetture o su un espositore di plastica. Infine il gruppo di fratta maggiore ha sottoposto a sequestro oltre 28 chilogrammi di sigarette di contrabbando tra Regina, Stix, Marlboro e Winston, tutte sprovviste dai contrassegni dei monopoli di Stato, sanzionando a livello amministrativo 12 responsabili.